Leggi l'articolo completo nel link in descrizione. Una sorpresa ti aspetta! La carta prepagata è uno strumento di pagamento che sfrutta normalmente gli stessi circuiti delle carte di credito, Visa Electron e Mastercard. Utilizzata soprattutto per gli acquisti online, perché può non essere direttamente collegata al conto corrente, risulta essere una sorta di portafoglio elettronico, un valido alleato anche per i più giovani. Numerosi sono i tipi di carte prepagate attualmente messe a disposizione dai più disparati istituti finanziari, perciò è molto importante valutare bene le proprie esigenze in modo da scegliere quella più adatta all'utilizzo che se ne vuole fare. Tra le più utilizzate sicuramente ci sono la Postepay e la carta Paypal. Vediamo quale scegliere. Attraverso il link in descrizione potete leggere una comparazione oggettiva tra le proposte di Postepay e Paypal. In definitiva, però, prima di scegliere una delle due, è necessario prendere in considerazione le proprie esigenze. Per esempio, la carta Paypal ha un plafond maggiore rispetto alla Postepay standard ed ha anche un IBAN, che è necessario per effettuare e ricevere bonifici. D'altro canto, la Postepay non prevede alcun canone anno e potrebbe essere la scelta giusta per chi acquista soprattutto online e non è interessato a servizi come l'accredito dello stipendio. Possiamo quindi certamente affermare che sia Paypal, sia Postepay sono carte prepagate valide e sicure. La scelta dell'una o dell'altra dipende soltanto dall'uso che se ne vuole fare. È comunque doveroso sottolineare che esistono tantissimi altri tipi di carte prepagate, messi a disposizione da altri istituti finanziari. Iscriviti al canale e visita il sito cartepepagate.org per scoprire le migliori carte del momento.